buongiorno vegas jones e bentornato sul music italia buongiorno senti ascoltando la bella musica colpisce innanzitutto una sensazione di serenità ritrovata una sorta di pace interiore sei d'accordo sì è vero fa piacere che lei colta è vero è vero c'è dal punto di vista della produzione l'album appare molto vario con brani diversi tra loro ma comunati da una cura in ogni singolo aspetto quanto si è intervenuto nella produzione molto cioè sono sempre mi piace molto il lato delle produzioni all'interno dei dischi appare la musica mi piacciono le produzioni vengo anche dalla dal mondo della tecno un po dove non ci sono parole mi piace sentire proprio mi piace la musica mi piace come scorre e avendo la fortuna appunto di lavorare con dei grandi produttori che sono anche dei grandi amici fortunatamente ho anche modo di dire la mia pur rispettando il lavoro loro e riuscendo a fare riuscendo a fare un riuscendo a creare un prodotto che piaccia a tutti noi che lo stiamo lavorando che non è facile però ci siamo soddisfatti quindi siamo contenti l'album inizia con un giro di chitarra come mai quella è opera di boston george con giovane hanno giro di chitarra che poi diventa un pianoforte che diventa insomma abbiamo cercato di abbiamo cercato di far capire da subito dalla prima traccia dove c'è più musica che parole perché poi parole sono sono 16 barre quindi sono giusto quei secondi che parlo dove però dico un messaggio che poi si ripercuote per tutto il disco e giustamente inizio con una lettera a un fan capito che poi è quello con cui mi interfaccio ogni volta quindi è giusto mi è sembrato giusto parlare a un fan per una volta in maniera chiara proprio diretta prima persona così nel primo pezzo canti ho fatto cose per cui mi sotterro quando ci ripenso quanto il passato conta nella tua produzione musicale presente tutto come assolutamente per esempio gli dico ho fatto delle cose per cui se ci ripenso mi sotterro poi dico mio fratello capito perché ho fatto delle cose che non dovevo fare però poi ho capito e avendo capito mio fratello è ancora mio fratello capito quindi siamo riusciti anche se ho sbagliato tanto sono riuscito a riprendermi comunque a non perdere la cosa più importante che era il rapporto con una persona e questo è un esempio capito poi succede succede nella vita di tutti i giorni ma quando sbagli quando sbaglio ho capito che più che disperarmi lamentarmi no complain cercare il modo per risolvere il problema perché c'è sempre un modo poi per quello che faccio non sono un esempio ma per ciò che sono forse posso esserlo cosa intendi esatto allora questa frase mi è venuta in mente parlando a un fan magari il fan a un età giovane magari un genitore capito io qua ho fatto un po una barra sui genitori che dico cioè se tu allora per quello che faccio non sono un esempio ovvero magari io quella roba di mio fratello non dovevo farla no del mio amico magari ho fatto una cosa sbagliata io non ti ho neanche detto che cos'è però ti sto dicendo se ci ripenso so che ho fatto un errore però tu non mi devi giudicare per quello che ho fatto tu mi devi giudicare per quello che sono cioè io che ho capito il mio errore io ho cercato di rimediarlo chiaramente se uno sbaglia sempre forse non sono un esempio infatti poi io dico forse posso esserlo non è che sono un esempio a prescindere esatto cioè chiaramente quello sbagliamo tutti però in quel caso lì poi ho detto non sono io il genitore e per il lavoro degli altri rispetto quindi fallo capito cioè non è colpa mia riattaccandomi non è colpa mia se tuo figlio si droga capito non è colpa mia se tuo figlio pensa che pensa cose strane capito è il tuo lavoro essere il genitore sono stato educato fortunatamente mia madre mi ha sempre dato un'educazione incredibile la ringrazio per questo perché oggi mi rendo conto che è utile nel parlare alla gente è molto utile il modo in cui uno si pone quindi se uno deve fare il genitore più che lamentarsi ancora una volta di suo figlio che magari segue un esempio cattivo che può essere può succedere è successo anche a me di intraprendere strade sbagliate nella vita però se sei un genitore il tuo lavoro è quello di riportare magari il tuo figlio sua retta via e non di dare la colpa a me che sto solo facendo della musica nel brano presidenziale c'è un verso che dice il rap è tornato e ritorna a votare ma anche io non sono un boss ma sono un leader con metriche rime si tratta di una critica nei confronti della scena rap a tua beh ci sono tanti rapper che non sanno fare il loro lavoro al giorno d'oggi beh ormai non ci stupiamo neanche più a dirlo ormai siamo sempre in più a dirla sta cosa il rap è tornato e ritorna a votare sì il rap è tornato ormai non c'è più quella cosa di ormai veramente spero e credo in base a quello che ho visto quest'anno comunque anche chi è emerso è gente che sa rappare che è capace al contrario magari degli anni scorsi che c'era un po' di confusione nel calderone dell'UMI sta facendo la trap magari no guarda fa il buffone cose sta guadagnando soldi lo faccio anch'io chiaro ci sta e qualcosa è venuto fuori così però di base poi chi è vero c'è qualcosa da dire rimane nel tempo è così quelli che puoi vedere oggi che sono lì solo rispetto capito però c'è della gente l'importante è affrontare il rap per quello che è cioè musica come il titolo del disco capito comunque è musica il rap è musica non è immagine non è cioè è musica se tu non sai fare musica fai fai il fashion blogger se c'è una bella immagine capito se sai fare musica e hai una bella immagine puoi fare il rapper capito è così ed è giusto che tutti lo sappiano il rap è tornato ormai tutti puntano a cioè bisogna puntare a comunicare di nuovo perché finalmente si sta un po' scremando la cosa della moda e stiamo stiamo diventando un po più solidi un po più compatti come genere musicale in se piove grandina c'è un ringraziamento a chi crede e ha creduto in te fin dall'inizio senti ancora una sensazione di rivincita nei confronti di chi ti ha ostacolato se la sento tutti i giorni ma anche quelli che mi ostacoleranno domani che sicuramente ci saranno è bene che ascoltino la traccia e che dicono mi darà del filo da torcere capito questo quello che voglio comunicare i miei nemici se c'ho dei nemici che gli darò filo da torcere capito questo ha questo è importante comunque non mollare mai chiaramente chi c'è sempre stato è il vero fulcro di questa frase cioè io faccio musica per chi c'è sempre stato i nemici ci sono e vabbè chi se ne frega dei nemici sicuro non vivo per quelli però invece vivo per chi c'è sempre stato quello sì quello sicuramente quando esce il sole la tempesta vuole ancora che parli di lei ti riferisce qualcosa in particolare sì per esempio quando ti grandina sulla macchina che col sole vedi c'ho ma c'ho il mezzo nero capito quando grandina non te una cosa diceva boh dai ci sta sta ancora piovendo magari poi il giorno dopo c'è il sole vedi le ammaccature capito e quindi la tempesta e lì parli della tempesta capito lì è finita la tempesta però ne stai ancora parlando dici mi ora che danni che mi ha combinato ora ora cosa ha fatto ora che cose eppure ne stai parlando e la tempesta è già finita magari da già c'è il sole in cielo sono sempre stato sul bordo non cerco il comfort oggi credi di aver trovato una tua comfort zone nella produzione musicale si comfort zone sì almeno non l'ho trovata ho trovato il modo per farla quello sì però ho capito il metodo di lavoro quello sì ho capito metodo di lavoro perché fortunatamente lavorando a questo disco ci siamo trovati in un paio di situazioni che abbiamo detto questo qua è proprio il metodo di lavoro che proprio bisognerebbe avere per fare un disco cosa che non mi era mai successo prima e mi è successo a disco già ampiamente completato comunque quindi sicuramente sarà una cosa che si sentirà di più nel prossimo progetto più che in questo anche se in questo però c'è l'intenzione che è buona comunque mi da bel bel trampolino mentalmente ma per te è ancora forte la contrapposizione tra palme e cemento si tutti i giorni tutti i giorni io ero nei palazzi da un mio amico gli stavo dicendo ma ci avete le palme ma che bello spettacolo si che ogni tanto capito la cosa delle palme del cemento come il fiore capito no che viene fuori dal cemento io portati in palme perché c'è proprio una cosa bell'aria bel air capito che ho sempre avuto questa cosa di palme dentro il mio immaginario che però rappresentano il sogno il cemento rappresenta la realtà capito palme cemento è sogno in realtà abbiamo costruito delle palme dal cemento quello già per la prima volta ecco in questo disco ho scritto una roba del genere cioè mi sono reso conto che qualcosa di buono effettivamente l'abbiamo fatto cosa che ti assicuro prima di questo disco non avevo capito zero proprio il brano la bella musica è quasi una preghiera laica chi è il mostro di cui parli inizio il mostro allora c'è una traccia nel disco adesso sempre l'intro nell'intro dove dico che la musica resta pura filtra il male dei soldi delle persone no è quello il mostro capito il mostro principalmente sono le persone i soldi non c'è nient'altro anche perché sulle uniche due cose che possono secondo me snaturare una persona non un artista sto dicendo una persona in generale cioè davanti ai soldi tanti puri cedono e davanti a delle persone tanti puri cedono quindi sono le due cose che possono fare più male sulla faccia della terra e devi restare solido per non far infiltrare il mostro cioè proprio tu immagina tipo una sfera una pallina che resta dura cioè non c'è niente che si vuole filare dentro ci sono tante cose ci sono i soldi i soldi da qui viene da accontentarsi smettere di avere fame farla scambiare i soldi per farlo per i soldi che farlo per passione o le persone che cominciano a invidiare persone finte contente persone che si avvicinano a te persone da sempre vicine che si allontanano per sempre per i soldi sono due cose che vanno a ponte quando uno è solido per me è il trucco per cercare di resistere almeno il più possibile poi non sai come va a finire però intanto è la metodologia giusta per me per me per me vegas stare solido non fa ho capito che l'unica cosa che non ti fa sbarellare perché è un attimo che che perdi tutto poi canti la pazienza ora è la mia arma come sei arrivato a vivere questa serenità ti dicevo forse grazie alla consapevolezza di quello che ho fatto grazie alla gente per strada che mi vede grazie a mia madre che è sempre più contenta di me ai miei amici che sono soddisfatti i miei amici che mi vedono anche magari come uno che ce la sta facendo semplicemente non come il rapper capito un ragazzo che ce la sta facendo un po la mia idea che vorrei che vorrei espandere a più che i miei amici no che è semplicemente così perché non è che quando ho cominciato a 18 anni pensavo di diventare volevo diventare pensavo no di certo di volevo sì infatti poi piano piano stiamo diventando qualcosa e poi da qualcosa si spera che sia sempre di più cioè senza pazienza non va da nessuna parte io penso di essere il rapper italiano dotato di più pazienza innanzitutto primo e seconda cosa se non avesse avuto questa pazienza sarei già morto ma già l'unico che ti può dire questa cosa tipo come sarei morto sarei morto di sicuro non farei più musica sarei ricordato come uno che è durato un anno e mezzo spero di continuare ad avere pazienza a questo punto nell'album ho trovato tre parole chiave che sono rispetto redenzione e riscatto in che ordine di importanza le poni oggi allora su tutte e tre con la r guarda ti dico rispetto la prima senza rispetto non possiamo relazionarci capito se tu non hai rispetto di me io ti posso dire tutte le cose che voglio possono essere più pensate possibili ragionate possibili se tu non mi rispetti è difficile che ci sia una conversazione rispetto vero intendo non il rispetto quello tipo ti rispetto per quello che dici c'è rispetto personale proprio tipo tu non so chi sei però ti dedico il mio tempo perché ho voglia di dedicarti il mio tempo lo faccio con rispetto come tu dedichi il mio tempo a me a te scusa il tuo tempo a me di pari e ci stiamo rispettando a vicenda quindi siamo sullo stesso piano possiamo parlare dopodiché ti posso dire che il riscatto è fondamentale perché quando uno non ha niente arriva a fare qualcosa è molto visibile una collana su di me è molto più visibile che su uno che già aveva tutto magari nella vita e la redenzione è proprio quello che ti dicevo dalla pazienza dalla pazienza che devo sempre avere in questo messiere per restare per restare a un livello giusto per potermi far ascoltare e rispettare la gente c'è bisogno io mi sento c'è qualcosa che ha a che fare con la redenzione l'ho portato a casa con questo disco sicuramente perché tante sassoni dalla scarpa me li sono tolti mi sono accorto che seguendo una via giusta e di rispetto nel rispetto delle altre persone sono comunque riuscito a migliorare me stesso vuol dire che se lavori però poi ce la fai questo imparato di sicuro ce la fai buona bella musica